La maggior parte dei litigi tra amanti finisce con delle scuse, ma non per Catherine Knight. Per lei ci sono dei metodi più brutali per giungere ad una soluzione. Parliamo di una macellaia che ha deciso di non separare il lavoro dalla vita privata. Questa è la sua disgustosa e terrificante storia. Ciao belli d'ezio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. Consiglio quindi di mettervi comodi e di non mangiare niente perché oggi c'è il rischio che possa venirvi la nausea. Adesso però iniziamo ad indagare sul file di oggi. Ma non prima di ricordarvi che su Pampling trovate tutte le magliette che indosso nei video e tantissima altra roba figa, davvero. Costa anche pochissimo nonostante la qualità ottima, potete fidarvi di Andrew. Infatti inserendo proprio il codice Andrew avrete anche delle calze a scelta, in omaggio. Queste sono le mie, sono fantastiche. C'è la perfezione, la perfezione. Comunque oggi voglio raccontarvi la terrificante storia di Catherine Knight. E' possibile che abbiate già sentito parlare di lei o magari avete visto qualche foto su internet. Ma insomma anche oggi trattiamo un caso assurdo, disgustoso e terribile. Mi riferisco a chi è debole di cuore o non riesce a tollerare certe storie. Ultimamente stiamo trattando casi davvero pesanti per cui siete avvisati. E comunque è colpa vostra se parliamo di roba sempre peggiore, siete voi che mi consigliate di raccontarvi queste storie. Questa proprio me l'avete consigliata voi. Comunque adesso la smetto di blaterare e cominciamo. Nata il 24 ottobre 1955 a Tenterfield in Australia, Catherine Mary Knight è stata il frutto di una relazione scandalosa tra sua madre, Barbara Rogan, e suo padre, Ken Knight. Sua madre Barbara non solo era già madre di quattro figli, avuti con un altro uomo, ma aveva anche incontrato Ken Knight tramite il suo allora marito. E quando il loro appuntamento segreto è venuto alla luce, ha scosso la loro piccola cittadina. La comunità che vi abitava era di carattere conservatore e non tollerava certi atteggiamenti, specialmente se il tradimento in questione è stato fatto con l'amico del proprio marito. Quindi, stando a quanto pensava la gente del posto, la piccola Catherine nasce già con la colpa di essere nata. È il frutto di un rapporto proibito e non tollerato. Uno scandalo vivente. Già questo dovrebbe darci l'idea di tante cose. Ma anche qui premetto e dico che, al di là dell'infanzia che una persona ha avuto, sono le scelte nella vita a fare la differenza. È pur vero che in certe situazioni non si può scegliere. Non c'è scelta. E se non si è aiutati o minimamente compresi, possono succedere cose davvero terribili. Cose come quella che racconterò oggi. Di certo l'infanzia di Catherine non parte nel migliore dei modi. A peggiorare il tutto, suo padre biologico è un uomo alcolizzato e violento, che abusa sua madre più volte al giorno, senza preoccuparsi molto di nascondersi dalla piccola Catherine. Scusate, non so bene come si pronuncia Catherine, quindi la pronuncerò in maniera diversa durante tutto il video. Comunque è sempre lei. Ma un po' come nel caso di David Parker Ray, che se non avete visto vi consiglio di andare a recuperare. Dentro le mura domestiche regna un vero e proprio inferno. Ma in questa storia si arriva a punti molto più bassi. La stessa Catherine afferma di essere stata aggredita sexualmente da diversi membri della famiglia. E questo fino all'età di 11 anni. A scuola poi la situazione non migliora. Ma non perché lei fosse presa di mira o cose del genere. Anzi, la stessa Catherine è una vera e propria bulla e terrorizza i bambini più piccoli. Probabilmente in questi anni sta sfogando la rabbia che ha dentro di sé, perché come sapete cresce in una famiglia che la sfrutta per i propri piaceri o frustrazioni. Banalmente è sfruttata, allora lei sfrutta gli altri. È una situazione decisamente malsana e in ogni contesto. Quando arriva al liceo, Catherine si isola totalmente e diventa aggressiva praticamente con tutti. Compagni e insegnanti. Non fa distinzione. Senza mai imparare veramente a leggere o scrivere, lascia la scuola all'età di 15 anni. E trova lavoro in una fabbrica di abbigliamento. Tutto va liscio fino a quando un anno dopo ottiene il suo lavoro in un macello. Inizia quindi a fare la macellaia. Taglia gli organi interni degli animali e viene presto promossa al disossamento. Malgrado tutto quello che ha passato fino a quel momento, Catherine Knight sorprendentemente ama questo lavoro. Cioè lo adora così tanto da posizionare il suo primo set di coltelli da macellaia sopra il suo letto. Così nel caso in cui avesse avuto voglia di usarli. Il motivo per cui le piace così tanto il suo lavoro però è più profondo. Fare la macellaia le permette di avere il controllo su qualcosa. Le permette di poter essere utile e di avere finalmente uno scopo. Per questo inizia a prendere quel lavoro fin troppo sul serio. Tanto da farlo diventare quasi la sua unica ragione di vita. In passato aveva solo sofferto per gran parte del tempo. Ma adesso, adulta e con un lavoro stabile che adora, nessuno la può fermare. Mentre lavora beatamente nella macelleria, Catherine incontra un uomo di nome David Kellett. Ovviamente si tratta di un alcolizzato furioso molto simile a suo padre. Anche lui è incline a fare a botte molto facilmente. Abituata a questo tipo di violenza e trovando in questo David un non so che di fascinoso, Catherine si aggrega ad una rissa organizzata da lui stesso. E riesce a sorprenderlo per il modo in cui fa a botte. David nota questa sorta di inclinazione violenta in Catherine e in realtà la apprezza molto. La donna riesce a fare a botte con una semplicità inaudita. Ma per quanto lui sia una persona rigida e violenta, presto si rende conto che in Catherine c'è molto di più. Catherine ha proprio un modo di fare autoritario e finisce per dominare il suo nuovo ragazzo David. Parliamo quindi di una relazione altamente tossica. Tanto che nel 1974 lei riesce a convincere David di sposarla. Sappiamo che durante le nozze David era palesemente ubriaco, anche perché era stato messo in guardia su Catherine. Gli era stato proprio detto che fosse una persona pericolosa e che in un certo senso con quel matrimonio stava facendo un grosso sbaglio, il peggiore della sua vita. Ma David evidentemente remissivo nei suoi confronti, il classico spaccone che però non sa affrontare la vita, la sposa ufficialmente. Viene persino detto che nella loro prima notte di nozze i novelli sposi hanno consumato il loro matrimonio tre volte. Capitemi. Ma quando David si è addormentato, Catherine lo ha obbligato a continuare per una quarta volta. Al che, evidentemente stanco, David rifiuta. E questo porta Catherine a mettergli letteralmente le mani attorno al collo. David riesce a respingerla e un episodio del genere non si è più ripresentato, almeno in teoria. Nonostante questo pessimo inizio tra un matrimonio da ubriachi e una luna di miele quasi omicida, il loro matrimonio va avanti per ben dieci anni. Parliamo di due persone profondamente disturbate e particolari, per cui forse viene un po' difficile immedesimarsi in loro. È evidente che David fosse rimasto completamente intrappolato in una relazione con una donna più pericolosa di lui. Parliamo di due individui che da ubriachi fanno a botte senza problemi e non si fanno troppi problemi di quello che pensa la gente. Ma Catherine, lei nasconde del marcio, un piacere quasi istintivo, animalesco. David non può far niente per cambiarla o forse non vuole neanche farlo. Forse ha paura di ripercussioni, perché sembra sapere di avere una potenziale assassina in casa. E non era l'unico a pensare che Catherine avrebbe potuto uccidere. Questo per farvi capire come era percepita dagli altri. Una donna davvero problematica e pericolosa. Erano poche le persone che volevano averci a che fare. Ma comunque torniamo alla loro relazione. Per quanto sia durata dieci anni, come potete immaginare, non sono stati dieci anni felici. I due hanno messo al mondo due bambine, ma questo non ha migliorato il loro umore. Anzi. Pare che una volta David sia stato picchiato da lei perché era tornato a casa tardi dopo una serata trascorsa con amici a giocare a freccette. Nella furia lei gli ha bruciato pure i vestiti. David quindi adesso si sente ancora più ingabbiato visto che ha avuto dei figli dalla sua terribile moglie, che più di una moglie inizia a sembrargli sempre di più un mostro. Lui quindi è spesso infedele. E un giorno lascia persino Catherine e le loro due figlie nel cuore della notte. Scappa letteralmente di casa e va nel Queensland. Lì si deve incontrare con un'altra donna. Manda quindi a quel paese Catherine sostanzialmente non curandosi nemmeno delle sue figlie. Lei però non si lascia sfuggire l'occasione di terrorizzare ancora una volta suo marito. Appena scopre le sue tresche, Catherine mette la loro bambina di due mesi sui binari del treno. Sembra anche impazzire e minaccia diverse persone con un'ascia che ha rubato da qualche parte. Con queste azioni voleva attirare l'attenzione di David e ovviamente ci riesce. David torna disperato nel tentativo di fermarla e per fortuna riesce a farlo. In quel momento viene sottoposta a varie visite e le viene diagnosticata la depressione post partum che ragazzi è una condizione più comune di quanto si creda e se non trattata può essere davvero tanto, tanto macabra e distruttiva. Pensate che dei testimoni l'hanno vista spingere violentamente il passeggino su cui c'era la seconda figlia. Ma non in una strada normale. Aveva spinto con furia il passeggino lungo una strada trafficata con il grande rischio che la bambina venisse investita. Per questo Catherine rimane alcuni mesi in un ospedale psichiatrico. Lì finalmente c'è gente che potrebbe accudirla, aiutarla e magari farle superare i traumi che ha subito. Ma neanche lì non si sa perché e ve lo giuro che è abbastanza strano la situazione non migliora affatto. Catherine vaneggia e dice alle infermiere che intende togliere la vita al meccanico che ha riparato l'auto di David. Questo perché secondo lei se l'auto di David è pronta e funzionante lui potrebbe partire e lasciarla ancora una volta. La situazione a quel punto si fa critica. Non si sa perché ma Catherine viene rilasciata da quella struttura e suo marito David malgrado tutto quanto la porta a casa con sé. Il loro rapporto però vacilla tanto e dura ancora per poco. Alla fine i due si separano finalmente direi. David quindi si lascia alle spalle una donna che avrebbe potuto benissimo togliergli la vita. Il tempo passa e nel 1986 poco dopo la sua rottura con David Catherine Knight non è affatto migliorata. Continua a lavorare come macellaia e quella è la sua unica soddisfazione nella vita. Presto però si innamora di nuovo e questa volta di un minatore di nome David Saunders di 38 anni. Non si sa perché né come ma anche questo nuovo David si innamora di lei. È molto probabile che Catherine sia stata abile nel rendersi piacente ai suoi occhi oscurando il suo vero lato. Comunque nel giro di pochi mesi questo David va a vivere con lei e le sue due figlie. Non lascia però definitivamente la sua casa e per questo motivo Catherine non è affatto contenta. non le piace vedere il suo nuovo ragazzo così lontano da lei. Le dà fastidio che abbia ancora la sua casa. Non capisce perché non viene definitivamente a stare da lei. Per questi motivi oltre alla sua indole e vendicativa crudele e controllante diventa inevitabilmente gelosa. Tanto gelosa. Ogni giorno ha un sospetto diverso e come la precedente molto presto anche questa relazione diventa tossica e violenta. Per farvi capire quanto è grande la sua follia Catherine ad un certo punto ha tagliato la gola al suo cucciolo di dingo di soli due mesi davanti al nuovo ragazzo. Questo solo per mostrargli di cosa fosse capace. Cioè come se fosse una dimostrazione di grandezza. Che schifo. Malgrado questi episodi e questi atteggiamenti i due rimangono insieme e mettono persino al mondo una figlia circa un anno dopo. È probabile che questo nuovo David col passare del tempo si sia reso conto della vera natura della sua compagna. di quella sua indole orribile e diabolica. Hanno infatti iniziato a discutere animatamente e ad un certo punto lei lo ha colpito con un ferro da stiro e lo ha ferito alla pancia con un paio di forbici. Non so chi c'era ai tempi ma quando facevo le live su Twitch parlavamo di casi del genere mi piaceva chiamare queste persone pazze in culo. E direi proprio che in questo caso Catherine è la nostra pazza in culo di oggi. Cioè. E infatti dopo quella lite anche questo David la lascia. Ma Catherine non contenta gli taglia tutti i vestiti per vendetta. La cosa assurda oltre tutte le cose successe è che Catherine ha chiesto e ottenuto un ordine restrittivo nei confronti di David. Ha spiegato che l'uomo era pericoloso per lei e evidentemente le hanno creduto. David però non si lamenta della situazione. Forse addirittura contento di questa cosa. Almeno non è costretto a stare vicino a lei. Così sparisce nel nulla e non avrà mai più a che fare con questa donna spaventosa. Anche lui ha tenuto cara la vita. Dopo queste due relazioni tormentate Catherine non si ferma e inarrestabile ormai. Incontra un uomo di nome John Chillingworth e con lui rimane legata per tre anni e mette al mondo un nuovo bambino. Sebbene non siano stati segnalati incidenti violenti la loro relazione finisce perché questa volta è la stessa Catherine a tradire. Lei lo lascia per mettersi ufficialmente con un uomo chiamato John Charles Thomas Price un altro minatore. L'inizio della relazione tra Catherine Knight e John Price è senza troppe complicazioni. John ha due figli più grandi che vivono con lui e sembra che gli piaccia a Catherine. È probabile che anche lui non conosca la vera natura di questa donna. John guadagna abbastanza soldi e tiene Catherine a suo agio. È ben visto da tutti ed insieme alla sua nuova compagna sta bene. I problemi però arrivano quando lei propone o forse è meglio dire impone di unirsi in matrimonio. John rifiuta e per Catherine questo è un affronto oltre ogni misura. Non stavo dicendo tanto per dire prima quando vi ho detto che col tempo è peggiorata. Catherine infatti si vendica di John facendogli passare grossi guai in un modo che sinceramente non ho ben capito perché a quanto pare fa perdere il lavoro a John e lo fa allontanare da alcuni suoi amici. I litigi poi aumentano John la caccia letteralmente di casa e figuratevi Catherine giura eterna vendetta. Purtroppo lei è un tipo che agisce se ti dice questa cosa vuol dire che hai in mente un piano e lo attuerà. È una persona che non si è mai fatta scrupoli ad utilizzare i suoi stessi figli o alle altre persone. Ha sempre messo in primo piano i suoi capricci e il suo carattere pessimo. Quindi in silenzio si prepara per il piano perfetto contro John. Lui ha le ore contate. Nel febbraio del 2000 si scatena l'inferno. Una discussione tra John e Catherine termina con il suo tentativo di punterarlo al petto e dopo questo tentato omicidio lui ottiene un ordine restrittivo contro di lei. Verso la fine del mese John rivela ai suoi cari di essere preoccupato per la sua incolumità e dice ai suoi nuovi colleghi che se fosse mai scomparso sarebbe stato perché Catherine lo aveva ucciso. Provava un terrore indescrivibile e purtroppo questi sentimenti non erano infondati. Il 29 febbraio del 2000 John Charles Thomas Price torna a casa da lavoro. Catherine però è lì che lo aspetta. Ha portato tutti i bambini a fare un pigiama party così da avere la casa libera tutta per loro. I due vanno quindi a casa di lei e una volta lì Catherine sembra fare la maliziosa. Ha comprato una nuova lingerie e in un certo senso pare aver provocato in modo intimo John. Quella notte dopo un po' i due fanno l'amore molto probabilmente presi più dalla passione che dalla ragione vista la situazione che stavano vivendo. non sembra che John si sia preoccupato della presenza di Catherine malgrado l'ordine restrittivo nei suoi confronti. Comunque dopo aver consumato quell'inspiegabile rapporto la donna prende un coltello da macellaio dal suo letto e pugnala John. Lo fa per 37 volte. Secondo le prove si è svegliato durante l'attacco ma non è riuscito a respingerla. Quindi la cosa peggiore è che John è cosciente mentre Catherine gli infligge tutti quei colpi mortali. Ora però entriamo in certi particolari scabrosi. Ricordate cosa ho detto all'inizio del video siete stati avvisati. Dopo aver posto fine alla vita dell'uomo Catherine trascina il suo corpo al piano di sotto poi lo squaglia e lo appende ad un gancio da carne che tiene nel salotto. Dopo aver fatto questo non contenta gli taglia la testa e taglia pezzi del suo corpo per cucinarlo in un piatto un piatto con patate zucca barbabietole zucchine cavoli e salsa. Cucina anche la testa giusto per non farsi mancare nulla ha quindi preparato un piatto anche per se stessa anche se non sembra che sia riuscita a finirlo più precisamente si trattava di uno stufato dopo questa immane atrocità si sdraia accanto al corpo senza testa e con vari pezzi mancanti poi prende un gran numero di pillole e sviene. I colleghi di John il mattino dopo non trovandolo a lavoro si ricordano di ciò che gli disse giorni prima sperano di aver torto ma per sicurezza qualcuno prova a vedere cosa è successo insieme ad un vicino provano a bussare alla porta di casa di Catherine ma nessuno risponde poco dopo con orrore notano delle macchie di sangue sulle finestre e a quel punto inorriditi chiamano la polizia questa arriva a casa di Catherine e trova la raccapricciante a dir poco vomitevole scena del crimine questi sono quasi tutti i dettagli ritrovati in quella casa la pentola è piena di liquido e dentro c'è una testa umana e delle verdure cotte sul lato nord della caldaia c'è una teglia e sopra ci sono liquidi e resti di verdure al forno proprio a destra poi ci sono due pasti preparati ciascuno dei pasti consiste in due pezzi di carne cotta patate al forno zucca al forno zucchine cavolo zucca gialla e salsa sotto ogni pasto c'è un pezzo di carta da cucina strappato con su scritto i nomi dei suoi figli voleva far mangiare quella roba ai suoi bambini i pezzi di carne sui piatti sono molto simili ad un pezzo trovato e raccolto dal giardino sul retro sulla sezione della panca della cucina lungo la parete si trovano una serie di oggetti all'estremità occidentale della panca c'è una brocca elettrica verde con macchie di sangue intorno al manico sul tagliere ci sono residui di sangue e il coltello anch'esso sporco ci sono poi altri coltelli sporchi e scatoli di medicinali sul pavimento c'è un lago di sangue e ci sono anche impronte di mani sul frigo e altre impronte di scarpe lungo il resto della casa i poliziotti spostandosi nelle altre stanze scoprono la vera scena del crimine il corpo senza pelle decalato di john charles price si trova in una posizione supina con le gambe rivolte verso l'ingresso c'è una notevole quantità di sangue spalmato sul tappeto ci sono anche segni che indicano che il corpo è stato trascinato a circa un metro dall'ingresso john si trova disteso sulla schiena con le gambe incrociate la caviglia sinistra è sopra la destra il suo braccio sinistro è esteso fuori dal corpo in un angolo di circa 45 gradi e anche il braccio destro è esteso e giace lungo il corpo il corpo è praticamente privo di pelle e carne con muscoli e alcuni organi esposti sono ovviamente presenti numerose ferite una delle più evidenti è una c***a all'altro sinistro del torace che si estende nella cavità toracica ve lo giuro per quanto sia entrato in certi particolari vi ho omesso una quantità enorme di altre cose disgustose spero comunque di aver reso l'idea una volta preso atto di tutto l'orrore che vi ho appena descritto la polizia arresta immediatamente Katrin anche se però era in coma accanto al cadavere una volta risvegliata in ospedale ha affermato di non avere memoria della notte prima nonostante stesse dicendo di non ricordare gli eventi Katrin viene rapidamente accusata di omicidio nell'ottobre del 2001 inizia il suo processo e la comunità intera è inorridita a dir poco Katrin alla fine si dichiara colpevole quel giorno è stata scortata in prigione e il giudice ha ordinato che i suoi documenti fossero contrassegnati come mai rilasciati per la prima volta nella storia una donna australiana è stata condannata all'ergastolo senza condizionale e queste sono alcune delle tante severe parole dette dal giudice in aula contro di lei la prigioniera le cose che ha fatto le cose che ha fatto dopo la morte della vittima indicano cognizione volontà calma e abilità sono convinto oltre ogni ragionevole dubbio che le sue azioni malvagie derivassero dai suoi risentimenti per il rifiuto subito dalla sua imminente espulsione dalla casa del signor John Price e per il fatto che lui volesse preservare i suoi figli gli ultimi minuti della sua vita devono essere stati per lui un momento di abietto terrore come invece sono stati per lei un momento di assoluto godimento l'unica pena appropriata è l'ergastolo e per lei non dovrebbe mai essere presa in considerazione la libertà condizionale Catherine Mary Knight si è dichiarata colpevole ed è stata condannata per l'omicidio di John Charles Thomas Price in relazione a tale crimine la condanno alla reclusione a vita fino ad oggi Catherine fa in modo di combattere questa sua sentenza malgrado si fosse definita colpevole ora mantiene la sua innocenza e rifiuta di accettare la responsabilità delle sue azioni ha già presentato ricorso contro la sua sentenza e l'è stato negato quasi subito sta ancora scontando l'ergastolo al Silverwater Women's Correctional Center il solo pensiero di ritrovarsi lì in quella scena del crimine fa avvenire il volto a stomaco di sicuro Catherine non è nata in un contesto felice ma ovviamente non si possono giustificare certe azioni personalmente parlando credo che la sentenza di Catherine sia stata giusta se non minima però fatemi sapere anche la vostra opinione nei commenti io come al solito spero che anche questo video vi sia piaciuto ragazzi vi ricordo anche di seguirmi su Instagram se volete farvi i cazzi miei e niente vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file ciao ciao Grazie per la visione!